Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo caso di L.A. Noire Il mio nome è come sempre Qtono8 e quest'oggi andremo avanti Nella narcotici con un nuovo caso La trappola The Setup Il mio nome è Feltz Ho fatto un pochino nelle marini Ho trovato una esperienza abbastanza Una esperienza abbastanza Minchia l'hanno ridotto proprio male Lol Ottimo quindi siamo qua a vedere una partita di J.Basket Una partita di box a caso Un match di box a caso Porco Giuda Che è che se lo sta menando Che faccia quella gente Oddio quello è il tizio che vedevamo nei giornali Quello seduto Quello seduto con la cosa azzurro Minchia sono volate robe ovunque Quindi fermo ha vinto L'inglese Asi 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 Ah Ottimo Ottimo Scelto velone il penultimo Fantastico Ok ragazzi io faccio un attimo una piccola pausa che devo andare a rispondere alla porta Ci sentiamo tra un attimo Ok eccoci ronati Continuiamo col caso Perdonatemi Hammond Ottimo 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 Poi vabbè il suo nastro Che vabbè Basta solo queste due cose No vabbè Questo è sempre lui Va bene Sì l'abbiamo capito Cagare il cazzo E vediamo se troviamo altro Uh giornale 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 Ah Sono preoccupato cazzo Sono in un jam Doctore Posso aiutare Courtney? È il money? No no Doctore È ok Che carino il dottore che gli offre i soldi Non è un grand cap come dottore lo so Professionale Confident Whatever you say We'll never leave this room I talked some of the guys In my old unit Into doing something And it's gone wrong Hmm I guess I did it for the wrong reasons For short term gain We came home from China On the cool bridge The morphine robbery Uh huh That was us I thought I could get the guys a fair share Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war Those guys deserve it doctor Oh I'm sure they do court But the deserving aren't always rewarded Ok We shifted our stuff onto this mob connected guy And it's been turning up all over town It wasn't meant to be like this The presumption was rather naive court I know that now doctor But people are dying Might I venture a few questions Sure Do your underworld contacts have all the morphine No they don't We doled it out Hoping we could control it Are they pressing you for further allocation That's the polite way of putting it doctor I may be able to help you courtney As next doc It helps just to talk about it I mean I have a solution that will help you financially and So serious I'm all ears doctor I will transact to take all the narcotic off your hands You can rest assured that it will all be medically administered I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication And invest them In housing developments Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen Your return will come from the sale of the properties And your investment will benefit those that you care for most Ooh What does this arrangement meet with your approval? You're a magician doctor It's a magician doctor Like you're right And then you're right Okay This Yes Il guantone È un guantone Cosa deve essere? Vediamo un po' qua nei cessi C'è qualcosa? No Uh qua Altro guantone No Ok Qua dentro Perché c'è una roba tag legata al coso della doccia? Vabbè Non chiedo neanche più io Niente basta tutto qua Fine di tutto? Va bene You better find that cocksucker and you bring him to me I feel bad too Mickey He guarantee me he would take the flop I guarantee that you will be fish food if you don't bring me Hello Roy You have a pocket too? Mickey Mickey Seems that way Don't worry about it My boys are out looking for him Well you'd better call them off This is a police matter now If anything happens to Hammond I'll testify that you made threats against him Boom 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 credo che avevi il mixtro abbastanza assicurato salve salve tu avevi un ruolo troppo importante quando siamo entrati vabbè andiamo a chiamare operatore diammi dispatch vediamo qua ci sanno dire su questi numeri di telefono questo è un numero di telefono in realtà nessuno oh ok indaghiamo all'hotel Elmar ok non posso andare a chiamare di base vediamo se ci sono macchine fighe questa no 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 niente usiamo la tua mi sembra la più veloce let's go amico mio amico tizio con la quale sono costretto a lavorare io rivoglio il mio polacco andiamo all'hotel Elmar infimordine pista calda su sali su sali dai muoviti è la ok grazie e via che si fanno ma non sono da vecchio ok eccoci l'hotel Elmar cheap raids hot water e hot altro yes Mickey Mouse apriamo allora veronica lake jimmy kenny elmar newhouse grandford tyron power detiene 10 e 20 artichon no lana turner bob hope mary morrow humphrey bogart winston churchill harpoon marx ah winston churchill ottimo che camera era questa perchè è l'unica con hello oh merda sangue no uh parnells adrian black product of choice city di uh andy has expensive taste albert has work cut out for E questo? No ma se questa è ancora calda Zio Altri cosi Capito Quindi stava Ha fottuto tutti per poter pagare casa Rossetto Ok E qua? Ah Che schifo E questo? Western Union Elvira Hammond Come soon your boy done good, Albert Ha ha E qua? Metà di un biglietto Sezione sinistra Filla Jay Ok Ok Basta Vi è entrato tutto quello che serviva? Vabbè così? Facile facile? Senza neanche una sparatoria? Niente Salve Niente Ok Andiamo Quindi Perché dobbiamo tornare All'hotel Ma è ancora caldo C'è tra c'è Dove è? Andiamo all'indirizzo di lei Dai Let's go Da Candy Larghissima L'ho presa Va bene così Oh salve So You box in the Marines We all did Standard training I can't imagine you ever play dirty The only prize for taking a fall was a thousand push-ups Ottimo Qualcuno ci ha fotografati Tutta una roba di luce incredibile Alleve motel No vacancy Ok Ok Grazie cara Il signore italiano? Oh merda Sono arrivate lei prima Oh Probabilmente Sono venute a cercarla anche lei Oh Vieni qua Vieni qua Ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Figa Ti prendo Dove vuoi andare? Minchia Ha fatto tipo un salto Neanche le peggio controfigure Va bene Esaminiamolo Esaminiamolo Vediamo lui chi è Lui chi è Oh bene Si Beh no I coltelli sono una bella arma Però Insomma Perché gliela rimetti addosso? Ma lei è scemo Hork Ray Wallace Mervyn Harry Robert La faccia Tipico italiano E questo braccio Controlliamo tutto Già che ci siamo Ok Alziamoci Qualcuno 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 l'ha chiamata Per arrivarsi dai coglioni E il rossetto Allora Niente Niente Il rossetto No non è rossetto È tipo Per le unghie Smalto Anche questo E vabbè Dobbiamo guardarle tutte Zio Non è che Puoi stare lì Sempre a dire Un nome non è niente Niente Acron Oma O O O H O Maha Tipo Vedete l'autos Oh Ohio Credo che non c'è molto Per Albert in Ohio Hmm Cunardine Ascania Ascania Sala da New York Hmm Vediamo Vediamo Allora We're trying to track down Albert Hammond We have reason to believe He might be in danger Do you know where he is? No I don't I'm over Albert I haven't seen him Ah Signora Allora abbiamo Biglietto dell'autobus Dai Con Un telegramma Il coupon di una rivista L'accusiamo Certo che posso Abbiamo il coupon di una rivista Yes He wrote your name and address On a coupon Look Albert was supposed to take a fall We were all supposed to make a little money out of it But Albert got too goddamn stubborn Said his pride was all he had left So I told him shove it Let's see his pride keep him warm at night So you walked out before the fire Yes I did What's the problem? I didn't take anything Andiamo Dai Andiamo Dai Andiamo Andiamo Dai Andiamo a pensare Lasciare a lasciare a lasciare a ti slide What? Lasciare a lasciare a me? Alla cosa che ho fatto Era cercare a Albert E ora L'accusa e ho dobbiamo E anche per lui? Sei lasciare a la città, signora Edwards? Si Andiamo a casa No Mi hai scopo Albert finalmente ha vinto una grande lucha E ho detto Buon luce Ma sai dove è Ma sai dove è E mi aiutare Candy E tutti quei tanti che si scopi Non so E' vero che ho sai dove è E E E E E E Ah, Gesù Elvira Helmond Che non è Che non è lui Cazzo Devo dare prova che lei sa dove si trova Ma non posso No Ottimo Ho fatto tutto male Che cazzo Chi cazzo se ne frega Cazzo, forse perché non ho controllato bene tutto il posto Sì Sì, anche secondo me Gioco ai videogames da quando avevo Due anni Adesso sono il re del let's play Wanna wait Che cazzo se ne frega Che cazzo se ne frega La mia immagina è una grande Che cazzo se ne frega Che cazzo se ne frega